Allora qua siamo a Re di San Polo di Piave, qui c'è la scritta ad ottobre 1567 l'acqua della Piave venne in questa chiesa, pensati quanti anni, sta qui è scritta quella che la vuole. Quanti anni è quella, è questa chiesa qua, è qua dal luogo, è qui qui, è qui qui, è qui qui, è qui qui, è qui qui. La città è 1500, la città è 1000, 1200, 1200, comandava il col alto o capirà? E il col alto, ho capito, si. Oh, eccola qua, 1200, 1100, comandava il col alto, l'ha detto la Signora. Adesso è dedicata alla Madonna del Carmine. Grazie. 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 Passiamo dietro l'aritare. Vandiamo in secrestia. Questa è la torre campanaria. Piano che non vi vede. Pesati. Ecco, adesso lega il pane. Via via, le casche sono tutte. Andiamo a ritrolo. Usciamo dalla porta. Eccola qua. La torre dirai. Non si vede. Perché è coperta dagli alberi. Demolita dagli ostrieci nel 1918. Ecco signore, io avrei finito. La saluto.